dei tanti ex edifici non fidanzati di cui la città di pescara si è dimenticata solo pochi sono riusciti a risorgere altri invece sono ancora lì in attesa di una decisione politica di un passaggio di mano di una bonifica o semplicemente del buon samaritano è il caso per esempio dell'ex fea un tempo stazione di una piccola linea pescara penne e dove oggi c'è il nulla il degrado incombe l'inquinamento resta e la città si priva di spazi importanti non riuscendo a rimanere amica dei suoi ex è stata una storia di usi plurimi e di abbandoni così si così si è arrivate a quel momento bellissimo che cesare manzo ha creato con il fuoriuso del 1997 se non sbaglio e poi all'abbandono totale c'è stato un parcheggio fino a poco tempo fa e poi siamo arrivati al 2015 quando la fondazione pescara abruzzo ottiene una concessione per trasformare quest'area in un museo di arte contemporanea un bel progetto una bella idea soltanto che questa concessione gli stessi uffici che l'hanno data l'hanno affidata l'hanno poi negata dicendo che la fondazione non avrebbe potuto tariffare le attività previste all'interno per esempio il ristorante la caffetteria la libreria cosa abbastanza assurda perché tutti i musei contemporanei moderni hanno queste non si va al museo bisogna anche potersi rilassare la fondazione però non ha ripartecipato cioè si è tirata indietro quando nel 2018 la regione ha rifatto il bando gruppo imprenditoriale del mattone ha vinto il bando della regione ed è avuto in affidamento questa struttura questo progetto alla fine non è non si è sviluppato l'unica cosa che è stata realizzata è una caratterizzazione che poi è stata fatta giustamente dall'arta cioè dalla struttura regionale che è deputata a fare questo tipo di approfondimenti il sito è risultato inquinato e occorrerebbe una bonifica ma chi paga stato detto che costava intorno a 300 mila euro che poi non è una grande cifra di per sé visto che l'investimento complessivo intorno ai 5 6 milioni di euro tuttavia nella legge italiana chi inquina paga e quindi questo comunque questa bonifica anche se fosse stata anticipata dal soggetto concessionario l'avrebbe dovuto ripagare o la regione o la gestione governativa oggi tua che ha tenuto questo 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 impianto per molto tempo come deposito degli auto. C'è il rischio che fra qualche anno in questa in tutta quest'area ci siano degli altri palazzi? No non c'è il rischio fino a quando il piano regolatore non cambia. non c'è il rischio fino a quando il piano regolatore non cambia. non c'è il rischio fino a quando il piano regolatore non cambia.